Vai 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 Casi Siamo Particoni Non proprio Particoni Via La bocca del Dio E questo? Ehm Ah, siete qui bambini? Ben tornati, avete pane? Sì mamma E abbiamo anche i sedi Non avete dimenticato qualcosa? Ehm? Avanti, pensateci bene A cosa? Fate vedere le mani da bravi E' stata la bici mamma, ho dovuto rimettere la catena Ehm, ce ne siamo dimenticati mamma, avevamo fame Avanti A lavarsi le mani Angela, guarda la cosa andrà teoria Ehm, cosa fa? Ehm, sa fare il meglio Non so Ehm Apri la porta Apri la porta Apri la porta Invece impasta il cibo Le ghiandole salivari Secernano dei suddi che aiutano a digerire gli alimenti E anche un disinfettante che combatte i batteri della bocca Ogni giorno viene prodotto più di un litro di saliva Lo sapevate? E' tanto, vero? Chissà perchè è così bello mangiare Ehm, perchè è buono qualissimo Il centro raccolta dati della papilla gustativa Ehm, il centro raccolta dati della papilla gustativa Il centro raccoglie il cervello Manca un po' di sale Ehm, mi manca un po' Per una volta hai ragione Ora è tutto a posto A cuore signore Pronto per la deputazione Mh Oh O Il mio messaggio è è amare Bisogna il لمaggio Per prendere provvedimenti E siamo andati per andare alla stessa velocità Sembra proprio che dobbiamo arrivare insieme Non vale la pena ritornere in questo modo Non ha tutti i loro Effettivamente Sì, ha ragione Nella zaroni, eppure dovrebbero sapere che l'informazione è urgente Mentre quegli sfaticati neurotrasmettitori perdono tempo, nel cervello... ...e non li perdi tempo Cosa l'altro? Troppo qualcosa di rinforzato Sono un pane amarogno di troppo Agilità dei valori medi Voglio smettere per l'integrazione Attenzione, per favore cercate di essere un po' più seri la prossima volta Il gusto non è una cosa semplice, è dato da un insieme di sensazioni Funziona un po' come un'orchestra, ci vuole molto coordinamento, mi sono spiegato? Certo, spiegato È molto buono te, ma non sei d'accordo, non ti piace Si continua, fa molto bene Ehm... 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 una volta decisa la meta, i batteri si mettono subito in cammino per raggiungerla sono ben attrezzati, ma soprattutto portano tanta scorta di zucchero avanti fate attento salto siamo arrivati la meta è raggiunta cominceremo da quella parte e perchè non cominciamo da qui? è semplice imbecile siamo troppo allo scoperto qui vuoi forse che ci blochino subito? la in fondo invece ci sono delle protuberanze che ci proteggeranno e ora finitela di discutere su mettetevi in marcia la prima distribuzione di zucchero si dopo questa sferzata d'energia si parte eh? la sommità del molare ai batteri non resta che scegliere il punto dove iniziare a scavare questo è il punto migliore del lavoro prima le squadre con i piccoli ecco questo potrebbe essere l'inizio di una carie è molto strano capo ormai da un pezzo che piccoliamo come dannati ma qui non si vede nemmeno un grazio la smalt è un materiale molto duro per la precisione e il più duro del corpo ma e poi la verità è che non si oziena una carie con pochi ore di lavoro ci vuole pazienza e costanza con gli indiamanti al lavoro ma non è molto stante capo non si potrebbe fare qualcosa ehm non c'è niente da dire lo conosce il suo mestiere ha esperienza da vedere figuratevi che questo è il suo terzo lente avreste dovuto vedere che bella carie è una con tanta l'infezione alla radice quando sarà il momento della pressione andrò a sistemarvi una bella carie di quelle del mondo oh dove siete bambini sono qui mamma avanti senti dobbiamo pulirli spesso ma vediamo cosa succede quando ce li laviamo ok ehm attenzione uno spazzolino da dentro carmè si salvi di c'erano di nascondersi ma niente da fare siamo perduti anche il ventofriccio non abbiamo più scarpe aiuto sono stati decimati e lo zucchero è stato portato via così i nostri nemici hanno perso ogni forza è difficile dire di no a una caramella ma attenzione col pieno e zucchero oh no, un'altra caramella è proprio qui ci siamo, eccolo zucchero, eccolo questo mi piace oh, che buono, mi tieni così i batteri penetrano nell'arteria e si mescolano al sangue ci confronteremo con la fonda confondiamoci ci sarà da spassarsela dite che ce la faranno a far la tranna va tutto troppo i globuli bianchi sono molto attenti un'altra caramella è un'altra caramella non ci siamo, ci siamo, ci siamo fatti così che intendiamo fuori sui soli Grazie a tutti